Pallone per Favero, ancora Higuita. Bella combinazione ma Ammarella, non è perfetto. ...della squadra italiana, anche perché forse devi anche pensare di cercare di rompere questa situazione. Ancora una volta non preciso e il Carazzo trova il gol. ...di questi cinque scelti da Tino Perez, lì Mattia c'entra calcia, occhio a Higuita che ha i piedi patati, calcia Higuita, il pallone termina in rete, 3-1 per il Carazzo Almaghi. Higuita da casa sua realizza il gol del 3-1 per il Carazzo di Hrudim. Calderolli, Lima, poco Wellington. De Oliveira controllo così, così, sbaglia l'appoggio per Lima, la conclusione. E il gol del 4-1 del Carazzo Almaghi che prova in mente fa scorrere i titoli di coda sull'incontro. La rete, se non ho visto male, di Yasenamanov, 4-1 per il Carazzo Almaghi. Anzi, di nuovo Orazzo è stoppietta dunque per il numero...